come l'inizio di ogni anno scolastico e di pragmatica che io vi dico qualche cosa la scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il bar ben trovato ben arrivato stiamo andando proprio a toccare il fondo è come una guerra molecolare fatta in giro in un firmamento di guerra stellari la scuola italiana è una stronzetta in generale non per tenere quella stronzetta se ne va in un'altra scuola perché qui da te due sono le cose o se gli addetti o se gli addetti nel senso che gli spezzano qui davanti a me la spiglia da uscire e cambia la persona ah, per chi non mi conosce mi volete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore dottore cavaliere del lavoro grande ufficiale Rodolfo Calabrone è un'indoluzione che già conosco a do minore credo Facetti? Facetti? Sì, Facetti adesso io ti mando a casa così ti raccogli tutto a tuo padre no signor preside, non esco, qui nel minimo mi spacca la testa è per questo ti mando a casa, io ti mando a fare il vino non mi gioca il capitale, mi mostre, mi mostre di qua, di qua, di qua, passare di qua buongiorno, stop, stop, stop tu che c'è qua dentro? non hai già fiamma? la ducola? la ducola? fai vedere, ma bene, che c'è? vai oh, due fionde abbiamo addirittura due è vero, capisci se se ne rompe una? beh, giustamente l'altra è di ricambio poi dicono, andò dovevi giocare con la roba dei bambini di tre anni come devo fare con lui? come devo fare? è carina qua, bella come vuole mio figlio, così si è piacendo bene? vai provare? fa guardi scusat cru! come dai quelli che riconi? ho detto quando ovvi chiusi? entra entra fiamma fuori dalla scuola qua e li 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 presto! tu io se lo faccio il brigatista si è addosso, bomba meno? giubbetta dei foglietri, fammi vedere faiOP sバ lo meno scusat sto ho cambiato il bomba sele rego ed ecco passare di qua 4 Tu ce la facci a droghetto C'è una cicera, le cocaina, le sedia Che droga c'hai? Tua sorella fa la puttana macerata E' un bello spirito